Siamo rimasti solo noi. Fico! Porta aperta. Merda, mi serve corretta. Questa è la stazione in posizione virtuale. Porta aperta. Questa è la stazione in posizione virtuale. Questa è il mio Super Exo. Grazie. Sì, come nel simulatore. Sì, ecco le sistemate. Sicurezza. Ah sì, attiviamole tutte. Attenzione, accesso libero anche prima. Gantone! Sparisci! Merda! Mi sento carico. Porta aperta. Coraggio! Dobbiamo resistere ancora un po'. Per l'armare. Gianta! Non ci vuoi? Non ci vuoi! Non ci vuoi! Fai la parte di aprile! Che cosa sono? Exovitamine? Capaciti, all nine. In guardia! Attenzione! Restituto su avanti, è finito al controllo! Forza aperta! Un bel passo avanti! Finalea! 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 Posto numero due! Finalea! Minutatenessa sul! Finale Luigi! Mistare la taraka! Seu sec為什麼, laura tratta! Ricarica totale. Sono stracarico. Ricarico! Ricarico! Diventeranno pop e morti! Ricarico! Doppio blast! Ricarico! 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 Oh devo ricaricare che cazzo sto dicendo bravo questo Oh La sei cercata Mostro abbattuto Attimazione e ricarica totale Mi sento al massimo Ricarico Perfetto Attenzione Perfetto Eri troppo vicino Sì, cazzo! Il drone è pronto Terzo fuori uso Doppio massacro in metà tempo Un vero schianto Attenzione I canini sono aperti Canini? Cazzo, li tengono i nostri cani di sorveglianza Ehi! Wow, è già finito Attimazione e ricarica totale Bene Bene Al culo Sono qui Sì Sono a terra Wow Iniziamo a vedere una strana luce bianca Ho ho, amo questi nodi Ecco questo Fico La risposta ai nostri problemi Ricarico Molto È È È Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aiuto! Aiutatemi! Verò più attento alla prossima. Soprita! Copritemi, porca troia! Devo ricaricare! Attenzione, attacchi di ferro... Vai! Canini! Cazzo, lì tengono i nostri cani e li sorvegliamo! L'errore! 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 Preso! Attenzione, attacchi di ferro... Mi sento carico! Bene, eccone altro! L'errore! 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 Il satellite conferma bersagli eliminati. Avviare il recupero. Voglio un resoconto completo.